salve a tutti bentornati a main cathedral oggi parliamo di psicomagia di esoterismo parliamo della filosofia dell'analisi esoterica dietro la fiaba di biancaneve dei fratelli grimm ma io per cui ne parliamo è che proprio pochi giorni fa durante una lecture alla lewis l'attrice e regista adesso di successo paolo cortellesi ha detto delle frasi che poi sono state anche che sono diventate un po una polemica semplicemente lei ha detto che biancaneve faceva la golf per i sette nani questo non va bene insomma si è fatta dell'ironia sicuramente lei anche la prenderà a ridere e secondo me ci sono innanzitutto essendo anche una stand up comedian una comica paola cortellesi principalmente è quello chiaramente ha fatto dell'ironia in questo senso e la prenderà a ridere insomma vero che non si lega il sarcasmo e la seconda motivazione è che è prevedibile che dato il grande successo del suo film d'esordio che è stato addirittura accostato a la vita è bella di benigni come come appunto successo automaticamente lei può sperare di avere le risorse da parte del industria cinematografica italiana per fare un salto di qualità il prossimo film a fare un film che possa arrivare a livello internazionale anche a competere ad altri livelli ma per fare questo come fece benigni che si aggraziò parlando appunto come doveva parlare dell'olocausto per appunto graziarsi l'academia wars così lei ha fatto questa affermazione che è totalmente in accordo con la visione attuale della parte politica democratica che finanzia fondamentalmente supporta l'academy ecco quindi insomma l'academy in generale l'industria cinematografica americana insomma perché è noto che adesso insomma l'interesse per la walk culture è centrale e anzi è un motore necessario fondamentalmente in questo senso e fa queste affermazioni anzi si fa anche in maniera polemica così ne parlano e quando qualcuno andrà a vedere a ecco lei è una di noi ecco lei è una di noi insomma ma è senso questo quello che dice la cortellese riguardo al fatto che biancaneve fa la golf dei sette nani innanzitutto è evidente che lei tratta della favola dei fratelli grimm e no dei grimm non del film di biancaneve della disney perché lì in realtà la storia leggermente diversa già aggiornata e non parlo poi del film che verrà fatto senza i nani con biancaneve di colore nonostante si chiama biancaneve tuttavia questa è un'occasione per dire effettivamente di che cosa parla la favola dei fratelli grimm i fratelli grimm non erano due idioti chiaramente è la favola come tantissime favole basata su archedipi e su una visione filosofica quindi insomma analizzando la favola i simbolismi della favola sono questi biancaneve e è una donna innanzitutto perché la storia vuole la fiaba vuole creare una parabola per spiegare come liberarsi delle lusinghe del narcisismo all'interno del proprio ego cordo che leggo quando parlo per ego non dico leggo il fatto di credersi sto cazzo e di quando parlo di narcisismo non intendo narcisismo essere arroganti o piacersi non solo questo ma anche il distacco dalla dalla realtà ecco della percezione della realtà e quindi la percezione di se stessi all'interno della realtà questo è il narcisismo e il leggo che un sistema di difesa quando prende il controllo delle nostre azioni della nostra identità può creare questo uno di uno dei problemi che può creare quindi un po come tutte le storie come la divina commedia prendiamo come archedipo anche biancaneve è un'anima che compie questo percorso durante questo percorso lei visualizza in due maniere il materno e quindi il femminile quindi all'inizio con la vera madre e poi con la matrigna quindi insomma sono due maniere di identificare la propria non femminilità ma la propria identità femminile che è diversa e quindi chi è la matrigna la matrigna non è altro che appunto il leggo che appunto con la crescita fatti lei è una bambina di sette anni nel racconto ed è una fase della crescita una fase determinante della crescita di sette anni in quel momento lei comincia a scoprire leggo appunto quindi la suddivisione delle cose e leggo la tenta in qualche modo punto cioè la consapevolezza della propria identità bellezza della propria unicità che succede quindi si identifica come una bella donna la matrigna ma in realtà la matrigna poi la vediamo che si trasforma e si nasconde in una brutta una brutta vecchia questo è abbastanza semplice da capire ecco insomma c'è la reale immagine di ciò che sembra bello invece orribile ovvero l'invidia l'invidia e il l'idolatria dell'immagine la propria immagine brutta ma che si mostra apparentemente come bello quindi l'apparenza infatti il il l'oggetto che identifica appunto la matrigna e lo specchio che anche sempre dei significati profondi esoterici no insomma è una comunicazione anche con se stessi e la presenza di biancaneve insieme ai nani che sono sette non a caso come sapere il sette un numero esoterico è il sette un numero esoterico che ha tante valenze insomma possiamo identificare nei sette chakra che sono anche la simbolicità dei sette pianeti e ovviamente il percorso di escesi qualsiasi percorso di escesi passa attraverso l'innescamento l'accensione di ognuno dei chakra che rappresentano una caratteristica diversa della personalità e del del fuoco energetico di un individuo quindi questi aiutano a far cosa i non a caso i nani lavorano nella miniera nella miniera la miniera sarebbe il subconscio e dalla miniera traggono i diamanti questo è quello che fanno cioè quindi insomma è la favola invita a esplorare il proprio subconscio come attraverso la focalizzazione e la meditazione che porta all'energia che fa passare attraverso questi e questi sette chakra appunto e sette nani che potrebbero essere insomma qualsiasi tipo di creatura nani probabilmente non ci vedo nessun significato esoterico se non quello che un po alla david lynch può insomma mettere un asterisco su una figura non canonica straordinaria quindi e quindi va bene in realtà anche che siano altre tipo di creature questo va benissimo e il fatto che lei comunque pulisca la casa luogo dove quindi il fatto che se faccia la colfo vuol dire che soprattutto per l'epoca che non era una cosa brutta pulire anzi rappresentava appunto il fatto di gestire il caos interiore e riuscire a mantenere un equilibrio che possa portare a un certo punto nel momento in cui l'individuo è caduto e quindi che vuol dire che è caduto è addormentato altra simbologia assolutamente comprensibile super utilizzata diciamo ecco utilizzato molto spesso ovvero insomma il fatto di non essere svegli il fatto di essere ciechi il fatto di non essere consapevoli allora per svegliarsi e quindi comprendere la realtà per ciò che è bisogna morire e rinascere questa morte e rinascita avviene attraverso l'aiuto di un elemento un elemento che unisce lo yin e lo yang l'uomo e la donna del principe e crea la completezza cioè quella consapevolezza del 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 tutto e il bacio è quel processo alchemico in cui si crea l'amore simboleggia l'amore tra due persone ma come abbiamo spesso detto in questa rubrica l'amore e soprattutto è assolutamente esclusivamente anzi non soprattutto quello per se stessi l'autostima che crea l'energia sufficiente per poter gestire la chimica interiore che permette agliando pineale far funzionare bene il cervello e passando attraverso sette fasi vedere risvegliarsi quindi sicuramente paola cortellesi non voleva offendere i fratelli green comunque abbiamo avuto un'analisi in base alla quale ci spiega che che lei facesse la golf dei sette nani non è niente di male perché lei stava rimettendo ordine nella propria anima in modo tale che i sette chakra potessero tirare fuori dal subconscio il sapere la conoscenza e il risveglio in modo tale che lei trovasse l'amore verso se stessa perfetto prossima volta prendiamocela con sailor moon saluti a tutti iscrivetevi al canale fatemi sapere cosa ne pensate